Ciao a tutti, oggi vi mostro tre primi piatti alternativi da proporre ai vostri ospiti al pranzo di Natale. I primi sono degli gnocchi di zucca con spinaci e pancetta. Gli ingredienti sono In una wok metto a scaldare l'aglio con dell'olio extravergine d'oliva. Non appena l'olio sarà caldo, vado subito ad aggiungere la pancetta affumicata. E faccio cuocere finché la pancetta non avrà cambiato colore. Pronta la nostra pancetta, vado ad aggiungere gli spinacini freschi. Copro e lascio appassire gli spinaci. Una volta pronti gli spinaci, aggiungo qualche noce che ho spezzettato con le mani. Mescolo E lascio cuocere ancora per qualche minuto. A parte ho già messo gli gnocchi in abbondante acqua salata bollette. Pronti gli gnocchi, le aggiungo agli spinaci con la pancetta e amalgamo bene il tutto. E voilà, il piatto finito. Vi assicuro che è davvero semplicissimo. Il secondo piatto è un risotto alle castagne, davvero delizioso. Gli ingredienti sono Per prima cosa andrò a frullare le castagne, mettendo in un mixer le castagne e abbondante brodo vegetale. Poi regolatevi voi. E frullate bene il tutto. Una volta ottenuta questa bella cremina, possiamo andare in una pentola a versare olio extravergine d'oliva e la pancetta affumicata. Una volta che la pancetta ha cambiato colore, vado ad aggiungere il riso e lo lascio tostare. Dopodiché aggiungo un goccino di vino rosso. Lascio sfumare. Vado poi ad aggiungere la crema di castagne. Mescolo bene. E infine vado a ricoprire completamente con il brodo vegetale. Avalgamo bene il tutto. Sistemo di sale. E lascio cuocere. Finché il brodo non si sarà asciugato. Et voilà! Il risotto è pronto. Ho aggiunto poi qualche castagna e una foglia di salvia per decorare. Come ultimo piatto vi propongo delle linguine con radicchio salsicce e gorgonzola. Gli ingredienti sono Per prima cosa vado a tagliare a listarelle il radicchio. Tagliato tutto il radicchio in una wok verso dell'olio extravergine d'oliva con l'aio. Pronto l'olio, aggiungo la salsiccia. Inizio, faccio cuocere la salsiccia affinché non avrà cambiato colore. Dopo qualche minuto posso andare ad aggiungere il radicchio tagliato a listarelle. Amalgamo Sistemo di sale Copro e faccio appassire un po' il radicchio. Una volta che il radicchio si sarà cotto vado ad aggiungere qualche tocchetto di gorgonzola Non tutto Un po' d'acqua di cottura della pasta Amalgamo bene il tutto per far sì che il gorgonzola si sciolga E lascio cuocere per qualche altro minuto con coperchio. A parte ho già messo anche la pasta Cuocio la pasta, la scolo e lascio da parte l'acqua di cottura. Aggiungo le liquine al radicchio e alla salsiccia E inizio ad amalgamare Dopodiché aggiungo il restante gorgonzola Aggiungo l'acqua di cottura che avevo tenuto da parte E mescolo bene per far sì che il gorgonzola si sciolga E voilà le linguine al radicchio gorgonzola e salsiccia sono pronte E niente ragazzi io spero che questi tre primi piatti alternativi vi siano piaciuti Fatemi sapere tutto nei commentini Se vi sono piaciuti Un bacio e a presto Ciao